Salve gente bentornati, oggi due minuti una fragranza e parleremo di Salted Caramel Apple che è fondamentalmente mela caramellata con caramello salato allora io la metto tra le diabetiche, prevedibile come cosa la Country Candle, perché è il brand, la mette, dove l'ho scritto, tra le autunnali allora la descrizione dice, una mela croccante ricoperta dal caramello salato, che bontà note di testa, mela e caramello, note di cuore, caramello dolce, note di fondo, cannella, muschio, paciuli e tabacco allora fondamentalmente da spenta si sente un po' la mela, un po' sto caramello da spenta, da accesa invece, prevedibile come cosa, butta fuori tutto il caramello che c'è ha una piccolissima nota, secondo me, di strinatino che potrebbe essere data appunto dal tabacco mentre per ciò che riguarda cannella, muschio e paciuli non ho idea di dove siano stati posizionati, perché io non li sento evidentemente vanno a fare un pochino da contorno a questa profumazione la potenza è ottima, secondo me, perché già solo in daylight che ho acceso normalmente si sentiva come se avessi acceso una tarte tipo grande così e quindi ha i nasini delicati, occhio non è troppo, il caramello salato, quindi non è troppo, è molto dolce però c'ha una puntina di strinato e nella puntina di strinato si sente anche la freschezza della mela da accesa questa è la Salted Caramel Apple, vi lascio nell'info box tutti i link dove acquistarli prodotti che ho usato, tutti i link di gruppi, pagine e tutto il resto e ci vediamo alla prossima, ciao!